Laura è la più giovane, nel rifugio San Francesco non può prestare il suo servizio e allora ogni ultima domenica del mese a Piazzolo sul Brenta si occupa di cercare una casa adottiva per uno dei quasi 200 cani ospiti. Ma i volontari sono 40 qui, tutte persone giovani come Matteo De Boni. Sono volontario qui da quasi un anno e mezzo, ho iniziato l'inverno scorso e sono qui con la mia ragazza che anche lei è volontaria appunto e abbiamo deciso di entrare in canile come volontaria appunto per dare una mano a questi amici a quattro zampe. Matteo e la sua ragazza vivono in zona rifugio San Francesco, lo hanno scoperto cercandolo su internet. Il lavoro è semplice, spiega. La mattina ovviamente ci sono da pulire i box, da mangiare ai cani, mentre al pomeriggio ci concentriamo più sul fatto di portare fuori i cani e farli divertire insomma perché hanno bisogno di divertirsi anche loro. E un sostegno arriva anche dall'amministrazione comunale di Piazzolo sul Brenta. Gli animali uniscono e appunto per le persone danno veramente quel apporto, quel sostegno di cui le persone tante volte appunto hanno bisogno. Ci sono appunto anche persone che sono indirizzate proprio dai servizi sociali o dalle scuole.